Power! 5 euro che non prendi fredda per poter... Ma che sia ancora quello a sinistra? O devo... O devo... No, per te... Eh... Ehm... Io che ero bobo una volta? Sì, sì, sì Vai, fumo presto a tagliare, se no devono essere massimo di esame Sì, sì Sì, sì Sì, sì Se faccio foto, ricordo, 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 come gallera, pinata, yalo, eh Ehm... Guarda, guarda Ah, che buono, eh Che buona la... Che cosa che hai, la cintura, la cabala Ehm... No, cerchiamo subito una che vediamo come qui Ehm... Che ha tagliare giusta? Sì 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 Pia Sì 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 Grazie a tutti, dottor.